Norbert è un 96, ragazzo molto giovane, è un guerrese che abbiamo visto verso il mese di ottobre, un giocatore che abbiamo appunto seguito in questi ultimi due o tre mesi, un giocatore che giocava nel Debrecen, ci ha colpito, ci ha colpito la sua fisicità, la sua tecnica, quindi abbiamo pensato che poteva far parte di questo gruppo e secondo noi appunto è un giocatore di buona prospettiva. È arrivato, è stato tesserato ieri quindi a disposizione della squadra e niente, gli auguriamo appunto di fare una buona carriera, iniziare dal Palermo che io credo che ci siano le caratteristiche perché diventi un giocatore importante per il nostro campionato.